E' un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. E' un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte di un'altra parte. E' un'altra parte di 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 un'altra parte. ma nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato trasalì attento a quanto avveniva in me di straordinario un piacere delizioso ma aveva invaso isolato senza nozione della sua causa ma aveva subito reso indifferenti le vicessitudini della vita le sue calamità inoffensive la sua brevità illusoria nel modo stesso che agisce l'amore colmandomi di un'essenza preziosa o meglio, questa essenza non era in me era me stesso avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale e donde mi era potuta venire quella gioia violenta sentivo che era legata al sapore del tè e della focaccia ma lo sorpassava incommensurabilmente non doveva essere della stessa natura bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo un terzo dal quale ricevo meno che dal secondo è tempo che io mi fermi la virtù della bevanda sembra diminuire è chiaro che la verità che cerco non è in essa ma in me essa l'ha risvegliata ma non la conosce e non può che ripetere indefinitamente con forza sempre minore quella stessa testimonianza che io sono incapace di interpretare e che voglio almeno poterle donare di nuovo e ritrovare a mia disposizione intatta fra poco per una spiegazione decisiva depongo la tazza e mi rivolgo al mio animo tocca a esso trovare la verità ma come? grave incertezza ogni qualvolta l'animo nostro si sente sorpassato da sé medesimo quando lui, il ricercatore, al tempo stesso anche il paese tenebroso dove deve cercare e dove tutto il suo bagaglio non gli servirà a nulla cercare? non soltanto creare si trova di fronte a qualcosa che ancora non è e che esso solo può rendere reale poi far entrare nella sua luce